Eccola qui, cominciamo da Fausto Panunzi che denuncia l'ultima richiesta di Raffaella Fico, il vero padre di mia figlia è Berardi, perché ovviamente dopo la quadrupletta adesso si spostano gli obiettivi e quindi si passa ad altro, andiamo avanti, questo è in lingua inglese, io ve lo traduco, James Home Castle che dice Berardi ne ha fatti 4, Closene ha fice 5 contro i Bologna all'ultima stagione, il record è 6 di Silvio Piola e Omar Sivoli, ma attenzione, gli dice Oscar L.S., never know with Piola, non è mai detto con Piola perché potrebbe saltare a 7 non appena Berardi si avvicina. Che poi la cosa che fa ridere è never know, non si sa mai, cioè tradotto parola per parola, va bene così, andiamo avanti, Mario Balotelli, questo è il suo commento dopo la sconfitta con il sassuolo, dei puntini di sospensione, secondo me è il massimo che può pensare Balotelli, questo è il pensiero più profondo, si è espresso in maniera congrua e giustamente Orlante commenta, pure secondo me, come dargli torto, trappola fuori gioco, già dal nome dell'account si capisce quanto ami scherzare questo signore, la cosa più vicina al pressing dell'Atletico Madrid è tua suocera che si trasferisce a casa tua, effettivamente, non ci può essere una calamità maggiore che ti occorre. Gioara va a festeggiare così con Benatia, mete trombo, gli dice qualcuno spieghi. Che bambini sta per suonare la tromba, questa è una cosa, esattamente, andiamo avanti, questa è una domissione vietata ai minori che abbiamo fatto stasera, non so se te ne sei so conto. Sì, infatti non so perché abbiamo aspettato questa sera. Nostro amico Massimo, il banale, Kevin Strotman, hi Kevin, could I send you my wife's mother, dice, ti potrei mandare per favore la mamma, tutti contro le suocere stasera, la mamma di mia moglie, me la potresti rimandare in piccoli pezzi, grazie, grande combattente. Ci sono anche questo tipo di richieste per Strotman. Eccolo, grande Fabrizio Bracconeri. Ah, Bracconeri, il nostro amico attore, Cristiano Rolando, per me è il numero uno finalmente, ma chi è Cristiano Rolando? Cristiano Rolando è un ragazzo che ha un'osteria, diciamo, a Monterosi dove abita Fabrizio. Dove abita Fabrizio, e va bene. Poi, attenzione, questo è il vero Cristiano Ronaldo. Questo è il vero Cristiano Ronaldo. Very proud to win the Ballon d'Or for the second time. It means so much to me. Significa molto per me aver vinto il pallone d'oro, grazie ai miei compagni di squadra. Un fake, cioè un account con il nome di Walter Sabatini, non è lui, ma insomma ci piace anche credere che sia lui, dice, ciao Cristiano, se vuoi ne possiamo parlare del tuo futuro nella Roma, chiamami magari. E giustamente Giangi, il commento che fa sotto è, but magari c'è falling down, che sarebbe in una bella traduzione un po' alla romana, ma magari c'è casca. E chiudiamo con, non vediamo una lira, questo è il signore che stava guardando Bologna-Lazio, ecco che fine ha fatto. Bologna-Lazio è la partita, penso, più noiosa degli ultimi... Polazio-Inter è la partita più noiosa degli ultimi 50 anni.